Dopo Temptation Island e Grande Fratello, per Mirko Brunetti si potrebbero aprire le porte di un altro programma Mediaset L'indiscrezione è stata lanciata da Lorenzo Pugnaloni sul suo account Instagram e la notizia ha ovviamente scatenato gli ormai famosi perletti Ma andiamo con ordine e vediamo come si è arrivati a questa succosa indiscrezione sull'ex concorrente del Grande Fratello Mirko Brunetti è stato al Grande Fratello e nel periodo all'interno della casa ha potuto vivere nuovamente con le sue ex, Perla e Greta La prima è quella con cui era approdato a Temptation Island, mentre la seconda è quella conosciuta durante il reality delle tentazioni e per la quale ha concluso la sua storia d'amore con la prima Nonostante l'iniziale grande consenso del pubblico, dopo l'ingresso delle due ex Mirko ha perso popolarità e due settimane fa è stato cacciato dalla casa grazie al televoto Mirko Brunetti, dopo il Grande Fratello va a Uomini e Donne Uscito dal Grande Fratello, Mirko Brunetti ha ribadito di voler bene a Perla e Greta ma di voler restare da solo e non voler più proseguire una storia con una delle due Ed è così che in queste ore è scoppiata una bomba gossip sull'ex jeffino A lanciarla è stato il blogger Lorenzo Pugnaloni, sempre molto informato sui fatti di Uomini e Donne e quindi fonte attendibile Il blogger non ha dato la notizia per certa, ma visti i precedenti la possibilità che l'ex jeffino, molto amato dal pubblico a casa nonostante le ultime vicende al GF, possa approdare nel dating show di Maria De Filippi è molto alta Mirko Brunetti ha Uomini e Donne come tronista? Potrebbe essere una cosa da non escludere per la seconda parte del programma Dopo Brando e Cristian dovrebbero scendere due tronisti nuovi, un uomo e una donna e, insieme a Ida Platano già presente, formare il nuovo trio, si legge nella Instagram Story pubblicata da Lorenzo Pugnaloni E ovviamente, sui social, i fan di Mirko si sono scatenati con commenti e possibili scenari tra Perla e Greta La prova del 9 per Mirko sarebbe che Maria gli proponesse il trono, se lui dicesse di sì allora ci sarebbe la risposta definitiva a sta storia, ma in fondo io credo che in molti abbiamo il dubbio che invece potrebbe accettare Posso accettare Mirko sul trono solo se lo condivide con Perla.Questo sarebbe Cinema X davvero, raga, a Perli verrà offerto il trono a breve, Mirko scenderà per corteggiarla.Vabbè, vado a farmi una tisana perché sto vaneggiando Sono alcuni dei commenti lasciati su Twitter